Terracina festeggia un'altra medaglia all'Olimpiadi ancora nel canottaggio. Il 27enne delle Fiamme Gialle Matteo Lodo ha conquistato la medaglia di bronzo nel quattro senza al termine di una gara entusiasmante che pure era iniziata sotto cattivi presagi a causa della positività al covid di Bruno Rosetti, uno dei componenti dell'equipaggio azzurro sostituito all'ultimo momento da Marco Di Costanzo proveniente dal due senza. Un podio dunque che vale moltissimo e una rivoluzione avvenuta di primo mattino giapponese, la notte in Italia che pur cogliendo l'ambiente di sorpresa ha dato forza al nuovo equipaggio di affrontare la finale con grande determinazione. Equilibrio fino ai mille metri, poi l'Australia prendeva il largo e dietro era bagarre per le altre due medaglie. L'Italia accelerava e per soli cinque decini sfiorava addirittura l'argento. Per Matteo Lodo è la seconda medaglia di bronzo in altrettante partecipazioni alle Olimpiadi dopo Rio 2016, sempre nel quattro senza. Peccato per l'altro terracinese del Fiamme Gialle Simone Venier che nella finale del quattro di coppia è stato frenato da un problema tecnico quando l'equipaggio azzurro era in corsa per loro. Per Venier è stata la quinta partecipazione ad una Olimpiade. Delusione per il nuotatore di Latina Matteo Ciampi fuori dal podio nella finale della 4 per 200 e per la romana Simona Quadarella quinta nella finale del nuoto dei 1500 metri. La medaglia di Matteo Lodo è la seconda per gli atleti laziali a questa rassegna olimpica dopo il terzo posto della romana Odette Giuffrida del Judo. Odette Giuffrida del Judo.